Questa è spettacolare, è una cosa fantastica, mi ho trovato tartarughe meravigliose da queste da qua, i delfini mi hanno aspettato, ma è certo, ma queste sono veramente grandi, sono diverse, connessione disponibile, dai, ma guarda, siamo in mezzo ai delfini, guardate, siamo in mezzo ai delfini, ma sono grandi da morire, guarda. E' enorme, no, capodogli, semmai, no, no, guarda, questo è bianconeri, non per parlare di calcio, ma questo, ma guarda, ma sono di due metri, ma anche di più, ma anche di là, si fanno un giretto dall'altra parte. Fantastico, se qualcuno sa che tipo di delfino è, sono enormi e maculati praticamente, ma sbuffano per disperate. Eccolo, guarda, stanno lì. Adesso ritorniamo davanti perché continuiamo la rotta, noi stiamo tra Ustica e Palermo. Ustica è fantastico, devo ringraziare tutti gli abitanti perché sono fantastici, guarda, se ci sono voluto andare apposta a Ustica perché non mi ricapita più, da qualsiasi rotta. Insomma, il concerto di Taormina domani sarà più bello dopo queste viste. Ecco, stanno lontano, ma credo che adesso li riaggiungiamo, li riraggiungiamo. Va bene, eppure oggi abbiamo avuto i nostri raffini quotidiani.